Oggi parliamo di Cari ascoltatori ancora una volta un ben ritrovati dal vostro Roberto Seda per questo nostro appuntamento settimanale in cui parliamo di libri in particolare di gialli Questa settimana prima di presentarvi l'autore, anzi l'autrice e il personaggio che ho scelto vorrei ricordarvi un attimo una cosa di cui abbiamo parlato durante le puntate dell'anno scorso dedicate ai romanzi di avventura vi ricorderete che a un certo punto abbiamo dedicato una puntata al tema delle rievocazioni storiche cioè dei romanzi di avventura ambientate in particolari momenti della storia europea principalmente che consentivano al lettore di godere oltre che del racconto avventuroso in sé anche di una ricostruzione storica, di un'immersione in avvenimenti spesso molto importanti, molto conosciuti che potevano essere visti attraverso una chiave di lettura diversa, anche più diretta vedendo e seguendo le vicende di un personaggio che in questi avvenimenti era coinvolto ora è chiaro che non doveva passare molto tempo prima che qualcuno avesse l'idea di combinare la letteratura gialla con la letteratura avventurosa contaminandole insieme e andando a ambientare delle storie gialle, dei misteri, dei racconti criminali in una particolare epoca storica questo anche perché potremmo qui ricordare l'opinione di un giallista italiano, anche bravo, che si chiama Raul Montanari il quale sostiene che in fondo il racconto giallo è un po' come le percussioni nella musica cosa vuol dire? Vuol dire che così come inserire il ritmo, mettere una base ritmica affidata appunto alle percussioni a batteria in un brano musicale lo rende immediatamente più coinvolgente, più accattivante, facilita l'ascolto così inserire una vicenda gialla, una vicenda un enigma rispetto a un criminale da scoprire rende qualunque altra storia che si sta raccontando più avvincente, più accattivante attira il lettore, lo costringe a rimanere lì nella lettura, a voltare pagina per vedere finalmente alla fine chi è l'assassino e perciò una letteratura avventurosa che già di per sé è per la sua definizione abbastanza avvincente certamente si avvantaggia ulteriormente dell'inserimento di una dimensione gialla ci sono moltissimi autori che hanno fatto questo tipo di combinazione alcune volte con risultati bisogna dire non così fortunati io ho scelto di parlarvi di una tranquilla signora inglese molto posata, molto pacata anche nella scrittura, anche molto schiva credo da un punto di vista personale che è all'opera da almeno 30 anni e che ha scelto di ambientare le sue storie in un periodo della storia inglese particolarmente complicato un periodo che nelle definizioni degli storici è noto come l'anarchia perciò potete immaginare una storia già tumultuosa come quella inglese ricca anche di guerre civili di colpi di stato e così via che un periodo sia ricordato in particolare come un periodo anarchico un periodo di torbidi, un periodo di guerre dice quanto questo periodo deve essere stato difficile un periodo in cui poco dopo l'invasione normanna il re Stefano che era un re particolarmente poco popolare affrontava una lotta dinastica con una pretendente al trono, una regina un periodo ricco anche di baroni, quelli che in inglese vengono definiti Robert Barons cioè baroni banditti, feudatari, nobilotti che approfittavano della loro posizione di forza per opprimere il popolo e in questo scenario perciò abbastanza tumultuoso si muove un personaggio che è un monaco è un monaco piuttosto sui generis, il suo nome è fratello Cadwell c'è qui tutta una questione che ho scoperto preparando la puntata sull'esatta pronuncia di questo nome sono quei racconti che in italiano sono noti, ve lo dico come scritto per facilitare la comprensione tra di noi sono noti come le cronache di fratello Cadfael ecco, prima di raccontarvi chi è fratello Cadwell e che cosa fa esattamente però credo che sia arrivato il momento della pausa musicale ho scelto un brano certamente non posato come la scrittura della nostra Ellis Peters ma che è un po' suggestivo di atmosfere medievali e anche di atmosfere anartiche è la preghiera del guerriero e warrior sprayer dei Men of War bene, questo brano spero che vi sia piaciuto a me piace molto per un certo tono epico anche se forse non era particolarmente adatto con i racconti di fratello Cadwell però forse sì allora chi è fratello Cadwell? è attualmente un monaco nella grande abbazia benedettina di Shrewsbury è una cittadina, una città importante che è al confine gallese e perciò è un'importante piazza di mercato è stata un'importante piazza di mercato nel momento in cui si svolgono le storie lo è ed è anche un centro fortificato, un centro di potere dei re inglesi un luogo potremmo dire di importanza strategica questo perché noi siamo abituati a pensare dopo aver visto Highlander oppure le storie dell'indipendenza scozzese siamo abituati a pensare alla contrapposizione tra inglesi e scozzesi ma in realtà per molto tempo il confine pericoloso dell'Inghilterra è stato quello col Galles e queste grandi città quasi al confine servivano a garantire la sicurezza del regno ma vivevano anche in una situazione, anche quando non c'erano le guerre civili particolarmente esposta, esposta a possibili scorrerie e altre situazioni drammatiche Cadwell è in realtà di origine in parte gallese ed è uno che prima di farsi monaco ha avuto una vita avventurosa questo è un luogo comune dell'avventura, il monaco che in gioventù è stato qualcos'altro Cadwell è stato marinaio, è stato guerriero, ha fatto le crociate, perciò ha conosciuto luoghi esotici, culture diverse e a un certo punto ha sentito la necessità del distacco dal mondo e ha trovato accoglienza nell'abbazia in cui svolge il ruolo di erborista maestro giardiniere voi sapete che nelle antiche abbazie medievali l'orto dei semplici dove si coltivavano anche le essenze medicamentose aveva molta importanza Cadwell sovraintende a tutto questo aspetto della vita del monastero vivendo anche un po' separato dagli altri monaci solo con le sue piante, con le sue pozioni e così via è chiaro che dal punto di vista dell'Ellis Peters che è la scrittrice una abbazia medievale è un luogo perfetto in cui ambientare dei misteri gialli non soltanto, adesso voi penserete sicuramente al nome della rosa ma perché il giallista ha sempre questo problema com'è che il mio detective, se non è un poliziotto, si trova coinvolto in questo mistero? perché il rischio è quello di fare la figura della signora Fletcher che dovunque vada, voi sapete la scrittrice in giallo ovunque vada porta sfortuna perché qualcuno per forza deve morire dopo un po' diventa ridicolo tant'è vero che sulla signora Fletcher si fanno tutte queste battute invece un'abbazia in cui c'è un grande movimento di persone in cui i grandi politici, i re, i nobili si riuniscono per trattare i loro affari diplomatici in cui vengono i pellegrini, in cui la povera gente si rifugia per essere protetta e così via offre una gamma di situazioni amplissime in cui l'abate può trovarsi nella necessità o per motivi diplomatici o per motivi del suo ufficio o per motivi di dare assistenza a qualcuno o per raddrizzare qualche ingiustizia ecco l'abate può trovarsi nella necessità di servirsi di un monaco particolarmente esperto delle cose del mondo che sa di piante e magari anche di veleni che sa di come si vive nel mondo militare pur essendo un monaco ecco l'abate quando ha bisogno e si trova in fronte a queste situazioni chiama fratello Cadwell e Cadwell indaga mi sta un po' per finire il tempo cerco di concentrarmi per dirvi alcune cose per consigliare questi gialli che sono secondo me molto belli allora un tema interessante oltre al fatto che sono dei gialli come vi ho detto ambientati in un periodo storico interessante molto anche spigliati dal punto di vista della narrazione sebbene molto equilibrati sono sicuramente diciamo dei gialli per famiglie è questo che Cadwell affronta sempre oltre al mistero dell'omicidio un dilemma morale questo secondo me è un tratto peculiare di questi gialli e della Peters cioè c'è sempre in Cadwell man mano che affronta i suoi casi un imbarazzo per esempio un innocente da proteggere che però a seconda delle sue indagini potrebbe trovarsi in pericolo per esempio oppure una verità più importante una verità etica che va protetta rispetto a a quelle che sono le ragioni della politica che magari gli imporrebbero di fare altre scelte ed è sempre interessante come la Peters risolve e il mistero e anche il dilemma di Cadwell il quale è un po' uno scettico anche un personaggio un po' fuori dalle storie dalla storia cioè ragiona un po' come un moderno piuttosto che come un monaco medievale ma anche questo aggiunge la nostra simpatia per lui perché lo troviamo abbastanza consonante con noi avrei altre cose a dire su fratello Cadwell ma come dall'altra parte del vetro scuoto la testa dicendo a questo quello che capita sempre come al solito casomai cercherò di scriverle sul blog dove riporto le puntate www.robertoseda.it o di raccontarvene in qualche altra occasione vi do appuntamento alla settimana prossima vi ricordo che oggi parliamo i libri va in onda il giovedì alle 19.10 e il venerdì in replica alle 8.30 vi raccomando questa settimana fate buone letture e noi ci sentiamo fra sette giorni grazie a tutti